Ciao a tutti, sono il dottor Francesco Barone, vi parlo della parafarmacia e il farmacista di Pozzallo. Se stai guardando questo video è perché sei interessato al controllo del peso corporeo. Bene, io mi occupo di consulenza alimentare da anni e ho sviluppato, negli anni appunto di esperienza, un mio metodo di attivazione metabolica, grazie appunto all'utilizzo di integratore, ma anche appunto di un processo alimentare particolare. Come avevo già accennato ai pazienti che mi seguono da tempo, stavo per fare un libro, un saggio, su questione di esperienza, raccontando un pochettino l'esperienza dei pazienti che hanno raggiunto il loro obiettivo, hanno raggiunto il successo, e sia sulle difficoltà e sui procedimenti che uso per l'attivazione metabolica. Ecco, il libro l'ho già finito da qualche mese, avendo come dire anche un discreto risconto da parte dei colleghi, oltre che dei pazienti, che è quello che mi interessa di più. Il libro è in formato digitale, in ebook, quindi lo potete scaricare con molta facilità. Ecco, vi faccio vedere un po' l'anteprima. Il titolo è Non facciamo diete, facciamo dimagrire. Il che già dall'incipit vi fa un po' capire anche qual è la mia filosofia di, come dire, di dimagrimento, di raggiungimento del peso corporeo. Bene, questo libro ho il piacere di omaggiarvelo, quindi ve lo regalo, perché mi interessa appunto come il completamento di un percorso anche per i pazienti che già mi seguono, ma anche come un lettre di presentazione per chi ancora non mi conosce. Come ottenere il libro in omaggio? Per i pazienti che vengono qua a Pozzalo direttamente me lo possono chiedere, spesso, tutto via email. Per tutti gli altri pazienti, contattatemi via social network, trovate il farmacista su Instagram, su Facebook, su YouTube, direttamente dal sito www.cabrepharm.it. Mi dite, caro dottore, vi piacerebbe avere in omaggio il suo libro e io ve lo giro in formato PDF immediatamente via email e così tranquillamente sul telefonino di casa, sul computer, ve lo leggete, ve lo sprucciate, già comunque riuscite ad avere delle nozioni importanti. Vedete, quindi leggendo, ascoltate in qualche modo i pazienti che hanno raggiunto i loro obiettivi con le difficoltà pratiche che hanno avuto e come hanno raggiunto il successo. Quindi parliamo dello sportivo, del giovane, della donna post gravidanza, della donna in menopausa. Ho fatto un po' un ket up su tutti quelli che sono ipotetici, pazienti, i basi che ho incontrato negli anni. Quindi vi ripeto, non facciamo dieta e facciamo dimagrire. Prendete tranquillamente questo omaggio, richiedetemelo e ve lo spedisco immediatamente. Per qualunque altra cosa contattatemi. Il farmacista vi ringrazia e alla prossima. Arrivederci.